La pittura ad acquerello è amata per la sua leggerezza e la sua capacità di evocare atmosfere etere grazie alle sue trasparenze. Questa tecnica, che utilizza un legante a base d'acqua, consente di creare strati di colore che si fondono delicatamente tra loro, permettendo agli artisti di produrre opere con un fascino quasi onirico. Alcuni acquerellisti esperti riescono a produrre l'effetto di una luce che traspare attraverso stoffe o fogliame, semplicemente sfruttando le proprietà delle trasparenze del colore. Uno dei segreti per ottenere trasparenze spettacolari consiste nell'uso sapiente delle velature. Si tratta di applicare strati sottili di colori trasparenti che costruiscono gradualmente profondità e complessità. Utilizzando colori diluiti con più acqua, è possibile sviluppare sfumature sorprendenti. Un trucco curioso è quello di utilizzare una tela umida prima di stendere il colore. In questo modo, il pigmento si diffonde in modo morbido e fluido, creando un effetto sbavato naturale. Ogni pigmento ha caratteristiche uniche di trasparenza. Per esempio, i colori come la giallo limone e il blu cobalto sono noti per la loro trasparenza, mentre altri, come il verde terra o il bianco zinco, possono essere più coprenti. Sperimentare con le combinazioni di questi pigmenti può portare a risultati affascinanti e inaspettati. Inoltre, alcuni acquerellisti utilizzano la tecnica del bagnato su asciutto per controllare meglio le trasparenze e definire i dettagli con precisione. Il mondo dell'acquerello premia la pazienza e un pizzico di sperimentazione. Provare ad applicare colori diversi uno sopra l'altro può aprire un universo di sfumature e giochi di luce inaspettati, trasformando una semplice tavolozza in una danza di colori vivaci. L'importante è lasciare asciugare bene ogni strato prima di aggiungerne un altro per evitare che i colori si mescolino troppo e compromettere la purezza delle tonalità. Grazie a tutti.